carissimi arrivo tardi questa settimana ma non possiamo non parlare almeno un po della grande gioia di pentecoste gli apostoli erano chiusi nel cenacolo pregando ma anche pieni di timore la discesa dello spirito santo li ha rianimati e ha fatto loro capire che l'esperienza straordinaria vissuta con gesù non era finita non andava considerata solo come un bel ricordo ma diventava l'esperienza della comunità cristiana della chiesa di cristo la mia chiesa aveva detto gesù matteo 16 18 chiesa che animata dallo spirito santo poteva e doveva continuare la missione di gesù come il padre ha mandato me anch'io mando voi aveva detto gesù giovanni 20 21 potremmo dire che pentecoste è la grande festa della nascita della chiesa o almeno dell'inizio della sua missione infatti subito dopo appena ricevuto lo spirito santo gli apostoli iniziano ad annunciare il vangelo nella lingua adatta a ciascun ascoltatore e lo annunciano con gioia di modo che questo annuncio diventa contagioso e si diffonde lo spirito santo opera in molti modi nella chiesa vorrei qui ricordare due brevi testi che ci danno due motivi molto belli per gioire nonostante tutto il primo è il testo di galati 5 22 che sarebbe bello imparare a memoria dice il frutto dello spirito è amore gioia pace magnanimità benevolenza bontà fedeltà mitezza dominio di sé è un bel modo di descrivere l'opera dello spirito lo spirito plasma in noi se lo lasciamo operare un'umanità bella che assomigli sempre più a quella di gesù lo spirito ci aiuta a rimanere nell'amore di gesù e a vivere la sua stessa gioia vedi giovanni 15 10 11 il secondo testo è giovanni 20 22 23 che certo ben ricordate dice gesù soffiò e disse loro ricevete lo spirito santo a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati i discepoli sono abilitati dallo spirito a portare quella misericordia che perdona i peccati loro per primi hanno ricevuto la pace il perdono e hanno gioito ora lo spirito li abilita alla missione di portare il perdono a tutti è la missione della chiesa è la gioia più grande potremmo dire che lo spirito santo che è stato donato a pentecoste e che tutti abbiamo ricevuto nel battesimo nella cresima e in ogni sacramento ci dona almeno due motivi di gioia profonda la gioia di un'umanità bella da figli di dio che lo spirito santo fa fiorire in noi e la gioia della missione che è di ciascuno e di tutta la comunità a cui tutti collaborano ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto a vantaggio di tutto il corpo di cristo grazie signore che ci hai mandato dal padre lo spirito santo spirito santo discendi su di noi fa crescere in noi il frutto del tuo amore che ci farà somigliare sempre più a gesù e ci costruisce come la tua chiesa e donaci la gioia di portare a molti il vangelo di gesù e il perdono la gioia del signore sia con voi